è ripartito il video ragazzi qualità ok benissimo allora scusate l'attesa ma volevamo ripristinare la qualità per permettervi di vedere i dettagli siamo in compagnia del cavaliere maffei dicevamo mastro trullaro e siamo nelle sue mani perché ci spieghi come sono fatti i trulli molto bene perfetto il microfono vicino alla bocca questa è la tecnica del trullo prima di costruirlo bisogna creare il modo di raccogliere l'acqua si crea la cisterna nel sottosuolo e in parte col materiale che viene preso da sottosuolo viene costruito il trullo la muratura del trullo è fatta in due mi spieghi una cosa scusi quindi vuol dire che sotto la base del trullo è scavato la cisterna per la cisterna siccome è comunque di pietra al suolo comunque si trova pietre si le cose che si estraggono dal suolo sono anche materiali di costruzione molto bene in parte si perfetto molto bene si 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 la muratura del trullo viene giustamente basata direttamente sulla roccia nel cemento del ferro bioarchitettura la muratura viene costruita insieme frontale interno frontale esterno lo spessore va da 1 a 2 metri tantissimo e per sfruttare questo spessore all'interno si creano le stanze le alcove stanze da letto vediamole si avventuro dentro in realtà ci siamo ci ho anche dormito questa notte dentro il trullo per cui abbiamo visto che effettivamente sono proprio fatti così questo è una alcove si perfetto come si chiama la stanza principale il cono del trullo diciamo sì la stanza principale ci sono vedete questi che quindi sono ricavati proprio nello spessore si sia le alcove senza letto per le nicchie di postiglia a muro sfruttato tutto quanto questo poi si costruisce la parte superiore che si chiama la cannella precisamente candela ed è una falsa cupola non è una cupola va su ad anelli a cerchi concentrici quindi ogni cerchio che chiude è chiave a stessa quindi non è la chiave di volta solo come la cupola è una falsa cupola questo lo spieghiamo bene perché molto molto interessante perché dice allora intanto qui abbiamo visto un altro elemento architettonico e di costruzione molto importante che è l'arco sì perfetto molto bene sono ad arco perché l'arco in pratica regge da solo molto bene c'è sempre la chiave centrale così che il peso poi fa forza e l'importante è che le murature siano belle robuste quindi questo vuol dire che se noi mi indica la chiave la chiave non è in questo caso la chiave di volta la chiave di volta del trullo sarebbe questa qui in questo caso la chiave di quell'arco questo vuol dire che è la chiave che se noi lo togliessimo cosa succederebbe cadrebbe tutto invece in questo modo in pratica ogni pietra dell'arco aiuta a reggerlo perché completa questa struttura che scarica a terra molto bene si si faceva sia il legno la struttura sottostante per mantenerlo oppure con la terra una volta messo il centrale si toglieva tutto e tutto faceva forza e questo mi sta dicendo in legno quindi quella che si chiamava centina se non sbaglio per reggere molto perché l'arco diversamente da quello che ci sta descrivendo adesso regge solo quando è completo molto bene per costruirlo serve un appoggio sì perfetto senza di quella chiave di volta anche di terra quindi veniva riempito di terra come lì per esempio i colossi a roma è stato fatto di terra una volta poi creati l'archi tolto la terra faceva forza in questo caso qui penso che sia stato fatto in legno e quindi con una tecnica simile lei dice si potrebbero fare delle cupole ma queste non sono cupola no è una falsa cupola in questo caso centrale non c'è bisogno di centine perché ogni cerchio mantiene a se stessa e chiave a se stessa quindi viene fatto poggiata piatta si chiama cannella questa un quarto all'interno tre quarti all'esterno quindi il baricentro va verso fuori non può mai andare giù quindi il peso di questo qua si mantiene da solo è qui praticamente vedete che appoggia su quello sottostante non cadrebbe proprio chiuso questo poi non lo vediamo più ci mettiamo la pietra sopra piatta ma non mantiene niente ci mettiamo poi le chiancarelle queste grigie perfetto e quindi dopo che tutto questo è stato chiuso in realtà c'è già una copertura ma che uno strato interno quindi questo è solo l'interno questo qui ancora che noi vediamo all'interno del trullo mentre l'esterno le chiancarelle queste grigie che possiamo diventare grigie col tempo l'intemperio sui carbonio chieni infatti analisa che quelli ristrutturati da poco sono bianche bianche gli intemperi hanno fatto questo un po a scivolo completamente fino alla cima dove finisce col pinnacolo il pinnacolo è l'unico punto del trullo dove si mette un po di malta intorno diventa unico corpo l'acqua come batte tranquillamente va giù una cisterna un pinnacolo c'è l'olio originale è quello lì ah ecco un pinnacolo visto da vicino perché prima li vedevamo da lontano chiaramente perché sono sulla sommità non dimentichiamoci che poi lo scarto di lavorazione di queste chiancarelle ah quindi questo è lo scarto di lavorazione fatto così perfetto sì perfetto senza cemento e senza niente così l'aria deve entrare uscire e formare una camera d'ariazione quindi l'aria condizionata naturale per questo motivo il trullo è fresco d'estate ed è caldo d'inverno che mantiene una certa temperatura per questo fenomeno bellissimo bello sa che il noi in realtà abbiamo siamo entrati a casa di una signora la signora mariella abbiamo chiesto come si vive dentro un trullo si e lei ci ha detto che effettivamente d'estate è freschissimo e stupendo l'inverno un pochino di riscaldamento però ha detto che serve se il trullo viene vissuto c'è un po di fare ovunque però una volta che riscalda il trullo per dissolversi quel calore ci vuole tanto tempo ho capito esempio banale se noi riscaldiamo un trullo d'inverno a 18 20 gradi chiudiamo le porte andiamo via dopo una settimana ci sono ancora i 16 gradi dentro perché la pietra l'assorbita la ridà piano piano nella casa moderna chiude e fatta un'altra cosa volevo dire qui all'epoca quando hanno costruito queste strade qui non si poteva creare una cisterna per ogni trullo sarebbe individevolimento della sottosuolo non era possibile che hanno fatto hanno fatto una cisterna a condominio per ogni strada questa strada per esempio c'è una alla fine della strada c'è un pozzo tutti quanti con il secchio andava a tingere a quello ma senta l'acqua come come scivole arriva la cisterna da sopra le chiancarelle qui in questo modo andavano a terra a terra c'è una canalizzazione quelle pietre che poi vedete e ci deve stare in questo caso qui ci ho messo l'apertura del pozzo avanti qui normalmente ce l'ha all'interno perché l'acqua è fonte di vita deve avere l'ingresso dell'acqua da una parte l'aria tirata dall'altra parte che deve circolare l'aria all'interno altrimenti l'acqua muore quindi questo è il pozzo della cisterna dell'acqua piovane? sì perfetto molto bene quindi si riusano sì 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 bellissimo adesso non più questa gita ha come tema la sostenibilità per cui va molto bene che adesso abbiamo l'acqua d'otto non serve più però ancora ce l'hanno bellissimo molto interessante bello proprio io la ringrazio molto e le faccio i complimenti quello è il trullo sovrano non so se l'ha vista il modellino del trullo sovrano sì 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 molto bello sì sì bellissimo grazie bello bello grazie è stato un piacere averla qui buon proseguimento penso che quelli che ci stanno seguendo sapranno dove venirla a trovare perché lei accoglie bambini gite io io faccio anche laboratorio per bambini perfetto per montano il trulletto io faccio il trulletto puzzle loro se lo montano solo che due anni che lo sono facendo per il fatto la pandemia siamo stati un po fermi quindi il trulletto puzzle tridimensionale bellissima perfetto molto bene e io a parte tutto quando vengono qui i ragazzi o le famiglie gli spiego il trullo a tutti quanti perfetto gratuito grazie grazie è stato un piacere arrivederci arrivederci grazie e complimenti eccoci ciao giuseppe grazie noi proseguiamo la nostra passeggiata ci riaffidiamo ad analisa per andare a vedere un trullo dove poi concluderemo la gita proseguiamo grazie ancora giuseppe ciao buon proseguimento vai di corsa andiamo forza si corre ora si corre si corre ripercorriamo quindi una delle strade principali che ci portano alla chiesa trullo ma adesso faremo una piccola deviazione e vedremo un trullo museo quasi del trullo allestito come era una volta quindi io invito i bambini magari a chiudere gli occhi a immaginarsi tipo di essere nel all'inizio del 1900 benissimo quindi più di cent'anni fa esatto nel frattempo scusa mi chiedo se la qualità del video è buona aspettate un attimo che faccio una adesso diciamo ditemi tenetemi aggiornato sulla qualità giriamo da via monte sabotino ogni stradina del rione monti ha questo nome via monte nero via monte san gabriele via monte san michele via monte sabotino e così via e stiamo per raggiungere in questi vicoletti come puoi vedere alessandro basta percorrere una stradina e prendere un vicoletto ci ritroviamo in mezzo a questi trulli ameni ma anche tra l'altro abbiamo visto anche molti di questi trulli ormai sono diventati anche case vacanza quindi si può vivere l'esperienza stiamo vedendo la la basilica dei santi medici sì che proprio spicca si erge maestosa sicuramente è uno dei monumenti che tra l'altro so che dal campanile si riesce addirittura a vedere l'occorotondo sulla qualità mi date aggiornamenti per cortesia quindi scusami un attimo e la qualità della connessione ok va bene questo è il meglio che possiamo fare ok e adesso a breve scopriremo un trullo veramente autentico come era una volta già bellissima si è visto meravigliosa apriamo questo cancelletto e dobbiamo essere pronti ad entrare in un altro mondo intanto ti voglio far notare all'ingresso spesso c'erano delle piccole edico le votive con delle statue di solito madonnine o santi alle volte anche statue dei santi medici prima di entrare però alessandro ti voglio far notare una cosa giuseppe prima parlava dell'importanza della cisterna della raccolta dell'acqua piovana bene qui abbiamo un pozzo c'è ancora possibile c'è ancora l'acqua dentro si vedono anche piccoli frammenti di bianco quel bianco che vedete è il latte di calce che aveva una funzione ben precisa quella di purificare l'acqua quindi igienizzarla in qualche modo la stessa funzione che aveva chiaramente per le pareti del dei nostri trulli così per le strade e per tutto quello che chiaramente necessitava di una funzione igienizzante adesso proviamo ad aprire tutto io nel frattempo apro e pian piano ci caleremo in un mondo antico io accendo la luce nel frattempo spero che riusciate sentirmi sì sì ti sentono ti sentono e quindi quando quando vuoi alessandro puoi entrare arrivo e vivere questa esperienza di calarti in un'altra epoca guarda qua bellissimo eh sì eh sì bene cosa stiamo vedendo io intanto mi sposto bene siamo all'interno del trullo principale quella che vediamo è chiaramente la cucina con tutti gli attrezzi le suppellettili ecco tu stai inquadrando anche il soppalco il soppalco che fungeva sia da seconda camera come seconda stanza camera da letto ma anche eh come posto dove conservare le derrate alimentari eh era il luogo più lontano dalla cisterna che di solito era al di sotto del pavimento che quindi poteva creare umidità quindi più distante da questa parte alessandro quando puoi avvicinarti si vede qui la camera da letto che era dei genitori che era posizionata in prossimità dell'uscita anche per una questione di controllo da questa parte invece nel quest'altro trullo più piccolino invece la camera dei dei bambini con un piccolo bracere giochini beh si vede anche questo vecchio baule e qui questo questo diciamo strumento che si vede qui è il pitale perché non c'era il bagno una volta quindi si utilizzava il pitale qui dove vedi quel 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 muro c'era il giardino quindi si eh tutto quello che diciamo si faceva durante la notte si buttava al di là del giardino il focolare eh era il punto importante perché fungeva sia come strumento di riscaldamento ma qui si cucinava anche e quindi guarda come è alto qui l'arco perché consentiva comunque al calore di venire fuori la canna fumaria però era bassa quindi il fumo veniva fuori e affumicava il cibo che veniva posizionato in alto era un modo antico ma geniale per affumicare il cibo tra l'altro tu vedi un po di cose appese qui vedo anche che è soppalcato esatto dicevo il soppalco fungeva sia da camera da letto per i bimbi in questo caso beh era più che altro utilizzato per la conservazione dei cibi come puoi notare infatti è stato allestito in modo tale che si veda come qui per esempio c'è il ci sono dei formaggi tipici delle nostre il calcio cavallo appunto a cavallo delle travi poi ci sono anche gli oppiacei in passato pomodorini sì pomodorini c'è c'è un po di tutto qui una piccola dispensa una piccola dispensa e poi cosa fondamentale che notiamo guarda lì più in basso una una parte che era destinata agli animali bellissimo gli animali che venivano vivevano quindi coabitavano con la famiglia e lì c'era paglia e sterco paglia e sterco in qualche modo la re che si sviluppava magari anche gli odori non erano certamente gradevoli ma sviluppavano le difese immunitarie di chi abitava all'interno del trullo io ti ho detto facciamo un passo indietro di cento anni ma forse anche qualcosina in più perché qui ovviamente si viveva certamente anche adattandosi a quello che era la tipologia costruttiva ma cercando in qualche modo di vivere nel modo più confortevole possibile e quindi poi chiaramente qui sono raccolti molti strumenti del lavoro del contadino perché essenzialmente qui ad albero bello erano contadini pastori che lavoravano ed isolavano insomma la terra bellissimo davvero bello si è davvero suggestivo e particolare stupendo da proprio l'idea anche dell'intimità e del fatto che ci fosse tutto quello che servisse a vivere all'interno del trullo bellissimo alessandro una cosa che non ci ho fatto notare ma dopo che avete visto il trullo sezionato guarda lo spessore della muratura dei trulli certo che diceva essere da un metro due fino ai trulli più vetusti antichi e qui faccio una precisazione scusa perché ci diceva il cavaliere maffei che alcune di queste stanze erano nello spessore dei muri altre come queste invece hanno delle cupolette loro stesse esatto erano delle quindi dall'esterno adesso scusa torno fuori per far vedere la struttura esatto che corrisponde a ciò che vediamo quindi questo vedete questa qua è la copertura della camera dei genitori esatto questa grande è la copertura della stanza principale esattamente benissimo allora noi adesso dobbiamo dobbiamo andarcene da albero bello purtroppo ti ringraziamo moltissimo per questa visita che ci hai fatto fare anche per averci introdotti in due case una abitata e una ricostruita come era all'inizio del novecento che hanno aumentato la suggestione io chiudo con queste splendide immagini e chiedo di mandare il sondaggio io vi ringrazio e saluto tutti vi aspetto vi aspetto dal vero bello un abbraccio a tutti assolutamente mi confermate dalla regia che potete mandare il sondaggio e lasciatelo pure aperto mentre noi ci spostiamo quindi lasciate pure il sondaggio aperto qualche minuto mentre noi salutiamo tutti e riprendiamo tra poco